Ciao a tutti amici, come state? Io spero tutto bene, io dovrei essere rientrata e sicuro il prossimo video che vedrete qui sul canale sarà il video in cui vi racconterò il viaggio ma per sicurezza avevo programmato anche questo video qui in modo tale da essere sicura che ogni mercoledì ci fosse il vostro video sono super super felice di registrare il video di oggi perché avevo acquistato questa cosa già da tanto e volevo portare il video però ovviamente avendo fatto già il mio programma questo video qui ha dovuto aspettare un pochino ma finalmente oggi posso leggervi i miei librottini in realtà ho pensato di dividere la parte 1 e la parte 2 perché essendo comunque due, sì è la stessa storia però comunque c'è la parte 1 e la parte 2 sono due librottini diversi, dedicherò due video diversi e quindi oggi andiamo a leggere Grazie 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 Inside Out Avevo fatto la storia su IG in cui vi avevo appunto raccontato e fatto vedere che avevo acquistato i librottini ma avevo nascosto l'immagine perché non volevo spoilerarvi già di cosa si trattava visto che sapevo che avrei poi fatto i video su YouTube non mi andava di spoilerar però sin da subito i librottini i librottini sono bellissimi perché oltre a leggere il suono che fanno è bellissimo si può fare questo si può fare tapping e tracing Allora Inside Out è un film che penso sia piaciuto a tutti a me tantissimo in particolare il primo che mi è rimasto davvero tanto nel cuore forse perché era anche un periodo particolare della mia vita ma credo che sappiate già tutti quanto comunque questo film si sia concentrato sull'importanza delle emozioni di ogni singola emozione quindi appena l'ho visto ho pensato che fosse davvero bello 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 leggerlo con voi quindi in questa prima parte leggeremo questo qua e poi in realtà mi farebbe un sacco piacere anche sapere commenti da parte vostra inerente proprio al film in generale nei commenti perché penso davvero che sia anche bellissimo per oltre che per i bambini perché insegna loro delle cose importanti anche per noi adulti perché bisogna sempre pensare che abbiamo sempre da imparare anche da un cartone animato comunque io direi che possiamo iniziare a leggere io non l'ho letto in realtà ho aspettato questo momento per leggerlo con voi quindi io direi di iniziare subito oggi è nata Riley una dolce bambina una dolce bambina i suoi genitori la guardano con amore e dentro la sua mente c'è solo gioia un'emozione dai capelli blu quanto è bella gioia quanto è bella gioia il compito di gioia è rendere felice Riley ed è facile adesso che è piccola basta far rotolare quella le sfere dorate della felicità poco dopo però nella mente della bimba appare un'altra emozione tristezza gioia non capisce a che cosa serva perché Riley deve essere triste a volte presto arrivano altre emozioni paura tiene Riley lontana dai pericoli disgusto le fa decidere quello che non le piace rabbia la fa arrabbiare tutte le emozioni che avete visto nella mente della bambina nella mente della bambina ci sono le isole della personalità come quella della famiglia o dell'onestà sono i ricordi base sono i ricordi base più importanti di Riley ricordate le isole passa il tempo e Riley diventa una ragazzina è arrivata da poco in una nuova città e all'inizio tutto va bene i suoi si divertono e giocano con lei talvolta Riley sente la mancanza della sua vecchia vita così un giorno a scuola si mette a piangere un ricordo triste rotola tra i suoi pensieri e nella mente di Riley succede un pasticcio gioia cerca di buttare il pensiero triste in un tubo aspiratore ma ci finisce dentro porta con sé i ricordi base di Riley e tristezza che guaio le tue emozioni si sono perse nella mente della ragazza ora devono tornare indietro e riportare i ricordi importanti al loro posto per fortuna incontrano Bing Bong l'amico immaginario di Riley lui conosce bene la sua mente e darà a gioia e tristezza dei buoni consigli quindi guardare che e riportare che bella intanto stanco di vedere Riley triste, rabbia e scoggi da un piano, mette in testa la ragazzina l'idea di scappare e tornare nella vecchia casa, da sola. Proprio così Riley se ne va senza dire niente ai genitori e nella sua mente si scatena un vero terremoto perché si sta comportando male. I pensieri di Riley tremano, crollano e gioia cade nella discarica dei ricordi dove va una scoperta importantissima. Gioia guarda un vecchio ricordo. Riley un giorno era triste e vedendola così scoraggiata i suoi amici erano corsi a consolarla. Ora gioia ha capito, anche tristezza è utile perché quando ti senti giù gli altri cercano di farti sorridere. Presto bisogna riportarla tra le altre emozioni. Già, solo tristezza può togliere dalla mente di Riley l'abbagliante idea di scappare perché può farne sentire la nostalgia dei suoi genitori. Ora Riley non ha più voglia di scappare. Le mancano tanto papà e mamma. Così corre verso casa con una gran voglia di piangere. E' come piange la ragazzina tra le braccia dei genitori. Ma proprio per questo mamma e papà la coccolano e lei presto torna ad essere felice. da ora in poi tutto cambia in meglio. Riley si diverte, fa sport, ha tanti amici e se si sente triste beh, sa che anche questo è normale. Adesso nella sua mente le emozioni sanno di essere importanti, tutte allo stesso modo e si daranno da fare insieme per far crescere Riley. Riley. Guardate quanto sono carine. E' stato veramente tanto carino leggere Inside Out. Ovviamente essendo un librottino è tutto molto ridotto. Ma chi ha visto il film sa. E se non l'avete visto vi consiglio davvero tanto di andarlo a vedere perché come ho detto prima non è soltanto un cartone ma spiega l'importanza appunto di tutto quello che noi proviamo. Detto questo io vi faccio vedere che qui ho Inside Out 2 e vorrei sapere dai vostri commenti se volete che vi porto prestissimo la parte 2 perché se ci saranno almeno 20 commenti in cui mi dite sì adesso lo registro proprio a breve insomma. Mentre se invece volete aspettare quindi non ci saranno tutti questi commenti, queste richieste ovviamente la seconda parte arriverà comunque ma con calma. però vi faccio vedere comunque la copertina. Quindi tra l'altro sono curiosa fatemi sapere se vi piace proprio l'idea di iniziare a leggere anche i vari librottini anche se sapete che ho tutte le altre ancora viabe da leggervi. Quindi abbiamo un po' di cose in coda. Io ho detto questo vi ringrazio e vi do un grosso bacio come sempre. Grazie per essere stati qui con me anche oggi. Ci vediamo quindi al prossimo video in cui vi racconterò del viaggio e quant'altro. Grazie. Ciao. 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 Grazie.